Te l'ho detto prima! Sì, non ha pulcicato! Eh, parlo, parlo, vai parlando! E poi si spiona! A me, a me non c'è niente da spionare! Limpida come l'acqua sorgiva sorgente! Uè, hai fatto i miei socchiari, Tito! Nata l'85, fatto conto quant'anni tengo! Da poveri e onesti genitori! Mia madre, Sofia Trombetta, faceva la lavandaia e mio padre, Procopio Solimene, maniscalco! Rosalia Solimene, che sono io, e Vincenzo Bagliore, che aggiustava ombrella e cofanatore, contrassero regolare matrimonio a di 2 novembre 1907! Da questa riunione vennerà al mondo tre figli in una sola volta! Quando l'allevatrice portò la notizia a mio marito che stava al vicolo appresso in vento al suo lavoro, ho trovato i catapetintano e scafare! Catapetintano e scafare per 5 sopravvenuti che maturamente me lo rapiva! Orfana di genitori, ambo due! Ambo due! Con tre figli da crescere! Andai ad abitare al vicolo Salliborio, basso numero 80! E mi ho messo a prendere i cossi a mosche, cacciate le belle morte e cattie le pie di grotte! I cossi a mosche me li fabbricavo io stessa e guadagnavo quel poco per portare avanti i figli miei! E al vicolo Salliborio ebbe a conoscere la donna Filumena, che bambina giocava con i tre figli miei! Dopo 21 anni i figli miei non trovando un lavoro se ne andarono due in America e uno in Australia! E non ha già avuto più notizie! E rimanete io solo! Io ho i cossi a mosche, i capelli e le pie di grotte! E non parliamo se non mi vuole anche un capo! E se non fosse stata per donna Filumena, che quando si è riunì con don Domenico, mi presse in casa con lei, io sarebbe finito a chiedere le moscine sopra le scale di una chiesa! Arrivederci e grazie! È finita la pellicola! Ciao! 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 Grazie a tutti